Musica Spesso quando parliamo al cane possiamo vedere che a un certo punto inclina la testa, perché lo fa? Le ragioni sono diverse, può farlo per aumentare la sua attenzione, ma anche per vedere meglio eliminando l'ingombro del muso dal suo campo visivo. Anche il pollo fa lo stesso comportamento per vedere meglio, perché il becco li copre in parte la visuale. Ma c'è chi sostiene anche che il cane inclini la testa per distrarsi da una situazione imbarazzante. Se ci pensate, anche noi usiamo gli stessi movimenti, tendiamo l'orecchio, puntiamo lo sguardo, passiamo lo sguardo, come quando il professore ci chiama per un'interrogazione. Ma non per tutti gli animali si azionano le stesse motivazioni. Il guva, ad esempio, ruota la testa di 270 gradi per vedere intorno a sé, per scopare una possibile preda nell'oscunità della norma. Grazie. 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 Grazie.